Musica 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 Dunque, tolgo l'occhiale, è venuto il momento, siamo quasi in orario, non credo ai miei occhi, di Raffaele Bellafronte, abbiamo deciso di scavare un piccolo spazio, come vedete, dieci minuti per questo compositore che tanto ha dato alla chitarra, tanto da meritare poi, non è una sorpresa perché l'avete stampato, il premio per la composizione che assegneremo nel momento delle chitarre d'oro. Andiamo sicuramente a fare un giro in Sicilia perché i vicoli di Ortigia sono a Siracusa, vero, corrigetemi se sbaglio, e questa è la prima esecuzione assoluta di questo pezzo che è un'opera commissionata dal convegno chitarristico internazionale, quindi premiando il compositore gli abbiamo commissionato un lavoro e lui ha risposto così. I vicoli di Ortigia verranno preceduti da una rassodia metropolitana, che è un pezzo già preesistente, e il chitarrista che si occupa di farci da ambasciatore della musica di Raffaele Bellafronte è Davide Di Ienno, che spero sia tra le quinte. Un applausi di Raffaele Bellafronte è Davide Di Ienno, per la musica di Raffaele Bellafronte. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.